L'obesità, il sovrappeso e anche quella comunemente chiamata pancetta non vanno sottovalutati perché possono nascondere malattie importanti come le malattie cardiovascolari, anche serie, il diabete e altre patologie come le neoplasie. Sopra i 40 anni quindi è opportuno eseguire periodicamente esami del sangue, radiografia del torace, visita cardiologica, visita ginecologica, visita urologica con particolare riguardo allo studio e la valutazione della prostata. Non aspettare, prevenire è possibile.